buongiorno a tutti ragazzi e benvenuto su questo nuovo video parleremo non si tratta di qua del mondo proprio reale ma proprio nelle applicazioni del questo telefono qui questo del mio telefono delle mie applicazioni le hai previsioni sta per arrivare un'ondata di caldo davvero fortissimo durante il gelo storico e qui abbiamo avuto tipo un clima primaverile e invece ora si passa tipo un po all'estate tra isla nublar e l'egitto poi los angeles new york saint francisco lì saranno i climi estivi invece l'everest massimo scenderà zero gradi zero potrebbe essere rischio valanga se aumenta di altri cinque gradi a temperatura invece l'artico di angry shark evolution meno 45 beh adesso andiamo a vedere tutto il dettaglio buon anno grazie a tutti ho lasciato passare un pochino visto questo è tutto il bug ragazzi l'astronomi del game map non dice niente perché non ci sono allerte di impatti però potrebbero fare un aggiornamento sui pianeti le costellazioni che dicono che ora spuntano sarebbe bellissimo nel mondo virtuale le cose sono diverse pare che si è tipo nell'anno del 1900 così rispetto al 2021 sicuro il mondo virtuale pare che sia così ancora tipo non è del tutto moderno o ha la tecnologia come qui nel mondo reale perché se noi abbiamo una tecnologia molto più forte il mondo virtuale avrà quella che abbiamo avuto un tempo ecco perché gli inverni sono molto più freddi anche adesso quello dell'88 l'inverno del 1988 che impiancò catania e anche il resto della sicilia la neve a zero metri proprio di quota proprio storia quella neve ma riaccadrà di nuovo e ci sono anch'io assisterò una bella nevicata rispetto a due anni fa scusatemi fatto un bel disastro è durato troppo a eccolo qua questo mi interessa siamo in the vedete game map questo è il gelo che ci attende e dura fino alle 12 che non prende propriamente tutto poi verso le 14 visto si comincia allargare proprio le 14 poi andiamo a vedere verso aspettate si deve aggiornare l'applicazione trovato verso le 16 il vortice di neve si allontra però il vortice del gelo ancora è avanti perché sarebbe quello blu quello viola e la neve poi andiamo dalle 20 ovvero stasera come sarà visto man mano si allontana e siamo 8 febbraio oggi poi durante il 9 febbraio proprio a mezzanotte le 12 cioè 24 ore e sarebbero le 00 proprio che inizia il giorno la giornata intenderci poi verso le 7 arriva l'aria calda sembra il 9 di febbraio questo è tutto al solito le temperature rimangono così poi andiamo il 10 di febbraio come sarà non si aggiorna ah ora le dice i numeri che ho detto io anche qui bug no troppi bug sta applicazione ho 10 febbraio ecco si è aggiornato poi l'11 di febbraio visto l'anticiclone comincia ad avanzare che porta le temperature sui 20 gradi ma se sono sotto 0 rimangono un pochia sotto 0 poi il 12 di febbraio ancora avanza l'anticiclone poi passiamo al 12 di febbraio che prende praticamente tutto è Isla Nuba al 56 gradi più proprio infernale caldo e la sopra all'Everest 0 è il rischio valanga sicuro e adesso attendiamo qui nel mondo reale che arrivi il gelo di San Valentino che cupido scaglie la freccia beh ragazzi spero che questo video ovviamente dal gelo storico si passa a un caldo infernale sulle applicazioni del mio telefono vi sia piaciuto mi raccomando mettete un bel like seguite su Instagram grazie a tutti Grazie a tutti